Solo pochi giorni fa, Moriconi era stato avvistato nel trio per le strade di Napoli a bordo di uno scooter. Senza un casco. Il video, che divenne virale, era accompagnato da una grande colpa sociale. Un teaser piuttosto bizzarro, molto poco dal lancio del documentario. Documentario che, dall'inizio, ha un effetto alienante su coloro che non seguono già il cantante romano che ha un enorme successo e cristallino, riempie persino gli stadi, niente da dire e buono per lui. Che, in effetti, è riuscito a far nulla di vuoto lasciato dall'evaporazione del modà. Anche se quelli che lavorano con lui lo confrontano, a volte, con la fanciulla di ferro a livello musicale. Almeno, almeno durante la musica musicale in questione. Allo stesso tempo, cosa, dal 2018 ad oggi è riuscito a creare con i suoi fan sembra essere un microcosmo esclusivo l'impressione è che nessun'anima fuori dalle due parti in questione conosca le sue canzoni. Quando ci troviamo di fronte un docufilm santino di questo tipo, indipendentemente dal gusto personale riguardante l'artista raccontato, siamo generalmente colpiti da varie epifanie. Mentre pensano di non conoscere il repertorio, alcune delle canzoni più famose che presto ci rendiamo conto che possiamo darti punto ultimo non succede mai. E si trova sulla sua strada per vedere interi fasi intare all'unisono e tra le canzoni di lacrime che suonano, con orecchie estranee e non pubblicate. Mistero d'acqua Sicuramente meno misterioso, l'antipatia epidermica che è un tratto distintivo della personalità dell'ultimo. È buono, come detto, quanto il nostro non fa nulla per nasconderlo. I fan spesso parlano una certa avversione della stampa verso il loro amato idolo.avversione, si dice, a causa di alcuni dei suoi infelici, quello Sanremo in primo luogo, contro i giornalisti in amici, parenti, collaboratori e fidanzata. Molto caricato quando sul palco, per il resto del tempo, un sorriso un favore di una macchina fotografica, una storia senza quel tono sufficienza caratteristico. Nella pandemia, come tutti gli altri, si annoiava appunto al punto che il manager gli affittò una villa extra lusso con una vista a pianoforte della piscina. I nostri continuano, quindi, a comporre da lì. Con un disprezzo invariato, tuttavia per me è una grande sofferenza non sapere quando io tornerò per esibirmi, ho anche parlato con il mio psichiatra appunto dobbiamo dare rispetto per il dolore degli altri.